Chi pensava alla ormai chiusura del giudice di pace di Pierimonte Matese si è dovuto ricredere stamattina le attività grazie al comune tiruviano che ha concesso un suo dipendente sono riprese regolarmente. Un sospiro di sollievo dunque per i tanti addetti ai lavori, avvocati in primis, perché il rischio che la struttura venisse trasferita a Santa Maria Capovetere era davvero alto, tagliando così un servizio ad un'area disagiata come il Matese. Ora però si spera che quanto prima si trovi immediatamente una soluzione definitiva per evitare che Pierimonte Matese perda anche il giudice di pace e il rischio è ancora dietro l'angolo.